Caro Lambrenedetto, sobillatore, disfattista a tradimento, diffusore di notizie false. Allora, in questo video vi parlo di antipatriottismo italiano, vi parlo di negatività italiana e vi do anche qualche proposta, qualche nuova idea per fare qualcosa in Italia, qualche spunto. Allora, il nostro caro Lambrenedetto non solo è sbarcato di nuovo in Germania e ci delizia con i suoi video, molto positivi, ma è anche sbarcato su TikTok. Sul TikTok, sul quale TikTok era venuto a fare la mia conoscenza, non gli sta bene quello che dico, non gli sta bene i milioni di visual che faccio e mi risponde di nuovo dalla Germania, senza ovviamente nominarmi. Vabbè, fa parte del gioco, non c'è problema. Con che notizie ci delizia? Con che notizie ci delizia il nostro Lambrenedetto da TikTok? Marocco, meglio dell'Italia. Frutta meravigliosa, guardate il costo. Amo il Marocco, frutta a 1,50 euro, che in Italia costerebbe 9 euro. Mamma mia, allora, io non so da dove cominciare. Allora, prima cosa, prima cosa veramente, per un'informazione del genere, tu saresti da prendere, perché poi in Marocco ci vai, però, Lambrenedetto vi dà l'informazione sul posto. Tu in Marocco ci vai, però, tra l'altro, potevi anche dire due parole sul fatto che se tu avessi fatto uno o due o tre video parlando male del re, uno o due video parlando male del Marocco, tu in Italia non ci saresti neanche tornato, perché avresti passato la notte in una cella con le cucaraccia, con gli scarafaggi volanti. Questo non lo dici, potevi anche fare un accenno. Comunque, per me saresti proprio da prendere e da mettere, da portare lì a Rabat, due anni, in esilio. Comunque, vabbè, non voglio andare sul personale, rimaniamo sull'argomento. Si attacca la tesi, non si attacca il relatore. Vorrei che se fosse un video veramente costruttivo. Allora, dopo tutte queste cose del Marocco, Marocco meglio dell'Italia, dopo tutte queste cose del Marocco, l'Ambredetto torna in Germania. Gli dà fastidio la rubrica che ho fatto su YouTube Tedeschi in fuga, e l'Ambredetto fa due video dalla Germania, uno più bello dell'altro, l'ultimo video lo chiama Italiani in fuga. Ecco i paesi dove andare. Bell'illustra il vostro l'Ambredetto. In questo video dici una marea di inesattezze. Ma voglio cominciare col video prima, dove dici la gente è impassita. Un po' la gente è impassita, è vero? Ma tu fai parte di quella gente lì, eh? Tu, cioè, io sono preoccupato umanamente. Comunque. Cos'ha il coraggio di dire, l'Ambredetto in questo video? La gente è impassita. Il suo penultimo video. Amici e amici, ascoltate. L'Ambredetto parla della socialità. Parla della socialità. In un video dice che vuole vivere nel bosco e in un altro video ci parla della socialità. Ci dice, in Italia non c'è più socialità. C'è più socialità in Marocco. C'è più socialità in Spagna. E, dulcis in fundo, hai avuto il coraggio di dire, c'è più socialità in Germania che in Italia. A cosa adduci questo fatto? Lo adduci dicendo che tu, in Italia, hai visto una persona entrare in palestra con le cuffiette e non parlare con nessuno. In più, l'ultima volta in Italia, ridevi e scherzavi con un tuo amico, un po' ad alta voce, e due signori ti hanno guardato male. Ah, l'ambre! Allora in Italia non c'è più socialità. Ce n'è più in Marocco. Ce n'è più in Spagna. Ce n'è più in Germania. Allora, ti rispondo subito. Allora, che ci sia più socialità in Marocco può essere anche vero. In Spagna può essere che siamo lì. Ma dire che in Italia non c'è più socialità, proprio tu, io non so in che mondo vivi, sono molto preoccupato, ripeto. In Marocco c'è più socialità perché è noto a chi viaggia, e tu viaggi, e anche io ho viaggiato, che comunque, in un paese comunque, diciamo, povero, e dove c'è molto sole, è normale che ci sia più socialità. E' quello lì, il bello di quei paesi lì. Anche in Albania c'è più socialità che in Italia, e anche in Argentina c'è più socialità che in Italia. Ma dire che in Germania c'è più socialità che in Italia, per quale basi lo dice? Ve lo dico subito. Lui dice che in Germania era andato a fare una colazione, stava mandando una nota vocale, e una signora anziana tedesca gli ha parlato in italiano. Poi è andato giù a comprare un kebab, parlava con un suo amico, e un altro signore tedesco si è avvicinato e gli ha parlato in italiano. Inoltre, fine della tesi l'ambrendettiana, è andato giù a mangiare un gelato e poteva parlare con i ragazzi italo-brasiliani. Quindi in Italia, quindi in Italia, c'è meno socialità che in Germania. Ragazzi, andate tutti via dall'Italia, ve lo dice il profeta l'ambrendetto. Allora, mamma mia, cioè io a volte mi chiedo, vabbè, allora, io gli ultimi tre anni ho viaggiato all'Europa, ho fatto un viaggio on the road, ho viaggiato soprattutto all'Italia, l'ho fatta da nord a sud più di tre volte, e anche da est a ovest. Toscana, Lombardia, soprattutto Toscana, Lombardia, Abruzzo, Puglia, Emilia Romagna, io ho incontrato delle gran persone tra gli italiani, delle gran persone calorose, delle gran persone aperte, delle gran persone, al contrario dei tedeschi, tu, mangia crauti a tradimento, delle gran persone che quando gli facevi delle domande su dei temi anche magari un po' delicati, politici, ti rispondevano. Io ho trovato delle persone che mi hanno portato in giro per la città, non perché già mi conoscevano dai video, io ho trovato delle persone con le quali sono andato dal nulla a pranzo insieme, io ho trovato delle persone che mi hanno ospitato in casa e che mi hanno accolto come in una famiglia. Tu hai trovato questo in Germania? No, perché tu della Germania non sai nulla, tu non sai nulla della Germania e adesso vieni qua a sparare un altro chilo, 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 Weiss, di inesattezze, di tuoi viaggi della fantasia. Tu non sai nulla della Germania, tu non sai la lingua, tu non sai entrare in una cultura, io non so perché tu fai questi video, ce l'ho un sospetto, ma non lo so, però è meglio che ci guardi un po' la tua linea anche comunicativa, se ce l'hai mai avuta una strategia comunicativa, perché il canale tuo è un po' onorente, sei un po' bollito, ma io non voglio andare sul personale, anzi, per me, se fai milioni di visualizzazioni e sei contento, io sono contentissimo anch'io, non è una gara tra videomaker o tra content creator, non mi interessa nulla, però non devi dire le inesattezze e soprattutto stai mandando un messaggio sbagliatissimo per i giovani italiani. Allora, allora, ti dico subito una cosa, tu in Germania non troverai nessuno sconosciuto con il quale andrei a mangiare fuori, tu non troverai del calore umano se non dagli italiani. Allora, io adesso ti farò leggere un messaggio che mi ha mandato un tedesco, una e-mail, e poi voglio parlare in modo costruttivo, però, l'ultima cosa, hai fatto un video, l'ultimo video, italiani in fuga dall'Italia, parlando da una cittadina tedesca, ma eri in una città o eri in un set cinematografico di un film horror, tutto grigio, nessuno in giro, solo te, tutto annuvolato, tu con gli occhiali da sole e la maglia nera, da toccarsi era, dicendo un mucchio di boiate. Allora, tu, tu ci vuoi parlare dell'immigrazione italiana. Ah, l'ambre ci parla dell'immigrazione italiana e dei motivi per i quali gli italiani emigrano all'estero. Ah, finalmente, per fortuna che sei tu che ce lo spieghi. Grandissimo. L'ambre ci dice, eh, ma le cifre italiane sono da paura. E poi, in più, il numero degli italiani che vanno all'estero, ufficiale, è la metà. Perché la maggior parte della gente non si iscrive all'aere. Questo magari è anche giusto. E dici, le cifre parlano di 200.000 all'anno e poi dici che sono il doppio perché, comunque, gli italiani che non si registrano al registro degli italiani immigrati all'estero diventano il doppio. 400.000. 200.000 all'anno, dici. Allora, è una cavolata. Nel 2019 sono stati 122.000 gli italiani che se ne sono andati. 122.000. Non 400.000 come dici tu. Nel 2021 sono stati 94.000 gli italiani che se ne sono andati dall'Italia. Non 400.000 come dici tu. Poi, parli, facendomi il verso, senza nominarmi, ma ci sta, insomma, non mi interessa. Invece, cito le parole, dalla Germania non se ne va via nessuno, ragazzi. Se se ne va via uno, ne tornano dieci. Allora, io ti parlo di tedeschi che se ne vanno via dalla Germania. Non se ne va via nessuno? Mentre nel 2019 se ne sono andati 122.000 italiani, nel 2019 se ne sono andati 270.000 tedeschi. Ma tu li leggi i dati prima di fare un video? 270.000 se ne sono andati. E non è vero che ne sono tornati 10 per uno. C'è una bella differenza tra quelli che sono tornati e quelli che sono andati via. e lo stesso anche se nel 2019 se ne sono andati il doppio di 122.000 italiani, ne sono tornati anche in Italia tanti. Perché non lo dice questo? Nel 2021, invece, di tedeschi se ne sono andati 247.000 altro che dalla Germania non va via nessuno, ragazzi. Ragazzi. Poi dici di certo la gente di cui la gente di qui dalla Germania dici non va via per cercare un posto di lavoro migliore e stipendi migliori. Invece sì. Se tu avessi la premura di fare una ricerca tutti i sondaggi di tutte le testate giornalistiche che tu puoi trovare dopo una ricerca ti dicono che la prima ragione per le quali i tedeschi se ne vanno via è per cercare un posto di lavoro migliore e opportunità di carriera migliori. E tu induci la gente a venire qua. E poi non è neanche quello il problema ma ci arriviamo a quello il problema. Tu induci la gente a venire qua dicendo delle balle. Poi vabbè altri ne esatterezza vabbè ce ne sono mille. Dici eh perché dove vanno gli italiani che vanno all'estero? Vanno in Germania vanno in Spagna vanno in Svistra un po' vanno in Regno Unito no gli italiani che se ne vanno all'estero vanno prevalentemente Regno Unito Germania Svizzera Francia Stati Uniti e solo il 5% va in Spagna solo il 5% Comunque io adesso non voglio offendere non voglio ripeto si attacca la tesi non si attacca il relatore per me c'è anche un brav'uomo però le conseguenze della tua comunicazione senza avere nessuna strategia di comunicazione che non sai dove vuoi andare a parare le conseguenze sono brutte perché? Allora partiamo dal fatto che tu parli di qualità della vita in Germania Allora questa qui è un'email che mi è arrivata sul telefono e te la mando di un ragazzo tedesco Ciao Fabiano ho appena scoperto il tuo canale e guardando le prime due video rimango davvero stupito come tu riesca ad escrivere bene il sentimento di vivere in Germania apri bene le orecchie ambre sono tedesco nato e cresciuto in Germania comunque appena maggiorenne me ne sono andato all'estero infatti già all'adolescenza la mentalità tedesca mi dava fastidio e non sono mai riuscito ad arrangiarmi con questo mio paese ripeto la mentalità tedesca mi dava fastidio e non sono mai riuscito ad arrangiarmi con questo mio paese ho vissuto in Italia per poco più di un anno per poi trascorrere una ventina di anni in Francia forse questo mio percorso per me è stata una specie di pillola rossa nel frattempo il mercato del lavoro in Francia non era più quello di una volta e anche il clima sociale era diventato davvero schifoso quindi uno si rimette in questione che fare della propria vita come riuscire a costruire qualcosa eccetera e sì è successo proprio quel che doveva succedere un bel giorno ho detto basta e mi sono messo a cercare un lavoro in Germania da ormai quasi sette anni abito di nuovo in Germania ho un posto di lavoro ben pagato e sicuro ma noioso come pubblico dipendente gli amici dell'epoca hanno moglie e figli e ci si vede di rado poi c'è stato il covid periodo molto difficile per me personalmente e mi ha fatto capire come nasce il FASH questo non lo posso dire devo togliere un pezzo perché non si può dire finisce così il messaggio adesso mi rendo conto che da un paio d'anni di nuovo non mi sento a mio agio come dici tu c'è qualcosa di sfigato nell'aria un sentimento di vuoto dentro addirittura esaurito psicologicamente fisicamente non mi sento vivo come prima di sicuro non è una crisi di mezza età hai presente i due film ricomincio da capo e The Truman Show è come se fossi protagonista di questi due film allo stesso tempo non ti preoccupare non bevo non prendo niente di tutto questo mi sto dicendo che bisogna cambiare qualcosa ho tanta voglia di fuggire anch'io poi continuo il messaggio questo era un tedesco per esempio allora voglio parlarti in modo costruttivo poi vabbè non ti rispondo più perché tanto speriamo che magari nasce qualcosa tra l'altro domenica vado a Monaco a visitare la tomba di Sophie Scholl Sophie Scholl una Sophie Scholl faceva parte del gruppo della Rosa Bianca è stata condannata a pena capitale durante il nazismo perché era un antinazista vado a renderlo omaggio alla sua tomba a Monaco Monaco di Baviera questa domenica se vuoi ci possiamo incontrare a Monaco di Baviera e berci un caffè comunque io voglio dire una cosa tu stai diffondendo una negatività senza precedenti nel tuo piccolo per fortuna non fai più le visual di una volta per fortuna ma questo è normale perché i tuoi temi andavano bene 15 anni fa adesso il tema che deve essere più ricorrente è che cosa si può fare per cambiare le cose in Italia mentre tu invece per fare delle visual non lo so mentre tu invece stai cercando di portare i giovani all'estero non fate qualcosa per il paese non impegnatevi non cerchiamo di organizzarci non cerchiamo di ragionare insieme no andiamo all'estero e poi vi faccio vedere io com'è la situazione all'estero con i miei video dalla Germania dalla Spagna dal Marocco dalla Francia per favore allora io ti dico una cosa un mucchio di gente che mi scrive che non è felice all'estero un mucchio di gente mi scrive che per uno stipendio dignitoso tornerebbe in Italia allora io mi chiedo perché non fare qualcosa per l'Italia invece di indurre le persone ad andare via sì lo so io sto dicendo questo e sto vivendo in Germania può sembrare incoerente ma io ho già detto io ci voglio tornare in Italia ci voglio tornare perché dopo aver vissuto dopo aver viaggiato a mezzo mondo e ultimamente sono stato anche spesso in Italia mi accorgo che non c'è nulla come l'Italia siamo pieni di problemi è vero ma sono problemi volendo risolvibili a noi in Italia ci manca l'unità del popolo quella cosa che qua hanno ancora nonostante tutto a noi ci manca questo l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è di una persona come te che diffonde negatività ogni video tutti i video uguali sarà la catastrofe ci succederà questo e succederà quello e siamo messi male per quello l'abbiamo già capito quello lo sapevamo da vent'anni che era l'ambra detto te lo sto dando anche come consiglio come nuova linea editoriale lo sappiamo da vent'anni non ci serve più ste cavolate qua allora io ti dico una cosa c'è un botto di gente che vuole tornare in Italia sai che che potenziale potrebbero avere tutte queste persone allora io mi chiedo una cosa voglio farti una proposta è da tre anni che io penso a questo ricordati voglio raccontarti una cosa ero a Taranto due anni fa ho avuto l'onore di conoscere un genio pensa a te conoscere un genio era un uomo argentino italo-argentino veniva dall'Argentina era in vacanza in Puglia stava facendo soggiorno a Taranto era stra entusiasta della città e mi ha raccontato un po' di lui mi ha raccontato di come secondo i suoi studi la storia sia ciclica e mi ha raccontato che le elite non esistono solo le elite finanziarie esistono anche le elite intellettuali secondo lui un giorno tra breve le elite intellettuali saranno formate anche dagli youtuber i politici del futuro saranno anche gli youtuber di adesso allora visto che noi siamo youtuber perché non ci becchiamo a Roma davanti al Parlamento e cominciamo a fare dei video davanti al Parlamento e cominciamo a fare delle proposte e cominciamo a organizzare un comitato di cittadini comitato di cittadini esasperati ma tutti a Roma tutti a Roma facendo delle proposte concrete e stando lì a oltranza finché queste cose non vengono fatte te ne dico una ma già la sappiamo uno stipendio minimo per legge un salario minimo per legge prima proposta seconda proposta che dico io certezza della pena e ordine in Italia terza proposta vogliamo sapere cosa ne sarà delle pensioni in Italia e vogliamo sapere cosa ne sarà del servizio nazionale del servizio sanitario nazionale vogliamo delle certezze vogliamo avere la pensione e vogliamo avere il servizio sanitario nazionale e vogliamo più equità sociale e vogliamo uno stipendio minimo dignitoso non se ne andrebbe più nessuno dal sud Italia con uno stipendio minimo almeno di 1300-1400 altro che venite in Germania e vi faccio vedere la Germania capisci? a Roma ci dobbiamo beccare a Roma ci dobbiamo